ma ci siete voi dove sono stato sono uscito per comprare questo 5 euro un pacchetto di pokemon costa di questi giorni ai miei tempi e questo mi fa suonare un vero boomer costava 3.500 lire un pacchetto un'idea a dir poco grandiosa bambini un po di casino qui pensavo di spacchettare questo pacchetto scegliere tre pokemon a caso da questo pacchetto e creare un nuovo pokemon verrà uno schifo uno proprio o un qualcosa di epocale mai visto prima d'ora non ne ho idea come funziona lo spacchettamento che tipo le apri al contrario nei conti tot perché una la carta boh com'è che fa federic il codice me lo tengo perché è mio figlio ci gioca fa tipo 1 2 3 e una di queste le mette tipo per ultimo non lo so io non sono uno spacchettatore seriale poi gira e intanto ci abbiamo ma cagata si zlipede clobobus cottoni ma che pacchetto cagata proprio ciutol non so come si pronuncia in realtà cinderace signori cinderace è raro non lo so dopo controlliamo frosmo questo mi piaceva molto come pokemon però il competitivo non ce l'ho fatta a farlo funzionare non so se avete visto i video morto no frosmo tra l'altro c'ho un po d'hype per l'ultima espansione di pokemon e poi tornare a fare il competitivo vediamo è la carta energia vedete che l'ho fatto male l'ho fatto male hitmore tank fish un'iperpozione e jamper pochonfil cane di andre quindi togliamo quelli che non sono pokemon fuori dalle palle il resto le mischiamo pubbidi 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 e io prendo questo qui in mezzo che abbiamo un cottoni inizia un malissimo speriamo in cinderace prendo questa frosmo ok ci può stare no c'è un'idea bestiale per l'ultima carta signori c'è un'idea bestiale gioco della bottiglia col pennarello quella che decide la punta bianca e questa cinderace boy is that you my boy cinderace e ora noi con queste tre belle carte pokemon comporremo il disegno allora io ho le mie carte qui non so se mettere delle immagini di riferimento o meno perché io ho le mie carte come riferimento ma poi fatemi sapere nei commenti se la prossima volta volete che metto comunque le immagini delle carte qui sul bianco allora cottoni è piccolo e puffoso quindi io partirei come base da qualcosa che lo ricorda perché faremo qualcosa comunque sia di puffoso intorno tutto può cambiare signori siamo appena all'inizio improvviserei delle ali per richiamare a frosmo frosmo e frosmo magari appunto ha dentro questo corpo un qualcosa di più umanoide mi chiedo se io voglio fare anche le gambe perché in realtà potrei anche non farle cioè starebbe bene anche senza gambe secondo me così già sembra un mostro forse è troppo grande questa gamba scorbanni lo stupido con io calciatore per chi era targettizzato per gli italiani letteralmente è che allora in questa parte qui in basso ha molto slancio verticale e qui quando arriva qua in alto diventa tipo un agglomerato una massetta secondo me la soluzione è nel mezzo quindi questo deve essere per forza di cose più piccolo magari più ciccio più largo poi lo sistemiamo sto cercando dell'armonia dove non ci è anche il braccio può essere un po più contenuto anche l'altro e siccome sia cottoni che frosmo hanno praticamente la testa frosmo ce l'ha qui cioè proprio dentro il corpo e cottoni il corpo è la testa oddio guarda che carino e abbiamo finito e io direi che potremmo improvvisare una testa tipo scorbanni in questa posizione che esce dal batuffolo le orecchie gli occhi di scorbanni si possono mischiare un po alle ciglia sopra ciglia chiamiamole così di frosmos che sembrano quasi dei petali la testa di scorbanni fa molto capitan subasa ci sarà stata dell'ispirazione nascosta lì gli occhi li farei vagamente insettoidi oh mio dio no così una bestia di satara però non voglio neanche che assumi troppo scorbanni quindi va più che bene una boccuccia alla scorbanni hey what's up boy il nasino alla scorbanni ci può stare anche se gli altri due non ce l'hanno il nasino quindi forse potrei fare questa questo punto qua un po alla frosmos poi qui iniziamo a comporre un po il braccio che potrebbe richiamare una foglia se vogliamo riprendere qualcosa da cottoni così non è male non è male fum fum cioè non è male comunque sia è un po sopravvalutato per lo proprio che sto facendo ma rimanete con me per favore sotto possiamo fare più o meno la stessa cosa richiamando le ginocchiere tipo di scorbanni con qualcosa di petaloso barra foglioso oddio se chiudo così la gamba che figata come si chiamava quell'altro pokemon derba che c'aveva le braccia e le zampe così tipo a punta ditemelo nei commenti perché davvero non mi ricordo forse era proprio l'evoluzione di cottoni no 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 perché quello è quel meta bastardo che odio wimsicot con vento in coda tutti questo wimsicot con vento in coda quale creatività bambini incredibile qui per giocare un po poi con il colore possiamo fare che la parte quella gonfia molto puffosa sarà composta da due colori quindi due materiali vagamente diversi per richiamare frosmos frosmos che ha una sorta tipo di sciarpa sembra che abbia il cappotto letteralmente quindi questo per esempio può essere bianco e questo può essere un verde molto chiaro come appunto cottoni questo quindi è il risultato che per ora abbiamo ottenuto è il mio figlio è la mia creatura figlio mio il tutto dalla fusione di tre carte pokemon ma adesso arriva il bello selezioniamo i colori finiamolo concludiamolo lo impaginiamo in una bella carta pokemon ottima idea bravo peo molto piacere e subito dopo miei cari pecoroni gli daremo anche un nome a mio figlio figlio mio passo numero uno far diventare tutto azzurro bam così che io possa inchiostrare fare una line art più o meno carina al di sopra e utilizzerò un marroncino un bel marroncino così no marroncino ci sta bene manco lo so in realtà però vabbè andiamo col marroncino o potremo andare con un blu stavolta blu ci sta bene una line art sì però io ho fatto il coso blu come non detto questo lo facciamo diventare rosso e poi faremo la line art blu perché il blu tende anche al verde e anche vabbè seguite il mio ragionamento se riuscite questa zampetta la mandiamo al mercato troppo spessa questa line art non mi piace volevo provare questo pennello già da un po' che ho scaricato su internet vediamo come se la cava non mi fa impazzire il fatto che sia triangolo il pennello perché tante volte non riesco a chiudere bene le linee come vorrei tipo qua guarda qua come si è chiusa male quindi ci devo ripassare e sbagliare magari torno al mio pennello di sempre come non detto oh mio dio non mi viene una riga è un po' storta ma sti cavoli non cerchiamo la perfezione se no non staremo già facendo un disegno del genere o magari questa è la perfezione questa è la perfezione a cui magari il nostro signore ambiva poi siamo usciti noi delle capre dei pecoroni dei guerra fondai vedete come con lo spessore della linea riesco già a dare tridimensionalità alle cose very important modulare la pressione modulare il tratto per questo stile qua in particolare anche se quello in cui mi muovo di più a un tratto così fino cioè il mio stile preferito quello del disegno precedente di makoto se lo avete visto punta più a dare spazio al colore e mi costringe anche a fare pratica con il colore che è il mio tallone da killer i disegni che infatti ho ammazzato con il mio colore che ho distrutto rovinato per sempre non ho fatto una codina ma l'aggiungerei sai che sai che sai che zio guarda che coda che te sparo guarda un po' passiamo al colore sto selezionando intorno espando la selezione zoom per far vedere quello che succede guarda pum 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 ah beh seleziono inverso quindi adesso mi ha selezionato quello che c'era dentro attenzione signori non ve lo aspettavate lo so lo so e parto con un verdino quale sarà il colore principale forse un bianco in realtà quindi adesso lo faccio bianco poi cambia un attimo lo sfondo perché se non ci capisco niente ole spegniamo lo schizzo andiamo sul livello del colore e finiamo di decidere i colori colorare così in fretta con la selezione a volte aiuta a volte no quindi adesso per esempio seleziono qui quello per espandere è nel selezione modifica espandi e gli dai il numero di pixel tipo 1 io l'ho impostato su f7 perché sono un bambino bravo così lo posso schiacciare 1 2 3 4 è abbastanza espanso poi magari vado a aggiustare la selezione nei punti di punta pensa un po' te vado nel livello del colore avevamo detto un verdino questo qua tipo tipo cottoni che un verdino che tipo è qua è tipo qua così attenzione la magia non ve l'aspettavate no 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 il verde invece delle zampe e degli arti in generale lo farei un po' più saturo un po' più acceso un verde che può stare tipo forse lo tendo anche un po' più al giallo o un po' più al blu un po' più al blu è importante cambiare sempre anche la tonalità dei colori per renderli più interessanti bambini eccolo qua quindi questo lo lascerei bianco questo lo lascerei bianco però dopo anche la testa mi rimane bianca attenzione forse troppo bianco e poi non abbiamo dei colori di cinderace con noi cioè non stiamo portando i colori di cinderace per quanto il corpo lo richiama molto fortemente però se vedete il colore dei pokemon in generale sono sempre massimo 3 è una palette limitata proprio per il loro design semplice quindi per ora mi concentrerei sugli altri dettagli cioè come se avessi deciso di prendere i colori di cottoni se facessi così forse con le ali possiamo lavorare un po' con i colori di cinderace proviamo qualcosa sul giallino sull'arancione molto chiaro tipo così fammi un po' prova una cosa fammi un po' fammi un po' prova sta roba va così com'è com'è sta roba un disaster piece e se le righe qua le faccio quindi di questo colore tipo così poi facciamo anche di qua non lo so non lo so sta palette di colori non mi fa impazzire fatemi ragionare sono già troppi colori ok sono troppi cinderace ha letteralmente uno due tre quattro quattro colori cotonine a tre frost motone a tre se questo lo facessimo bianco così è un po' indeciso come colore un po' indeciso oppure possiamo fare così eh oh eh oh oh di consequence questo lo farei bianco e farei l'altro verde chiaro questo così mi stacca con la testa così almeno c'è un cambiamento bianco verde bianco e poi volevo provare siccome questo arancione non ci sta per niente bene con questi colori che sono più che altro freddi mi muoverei verso l'azzurro per richiamare un po' frost motz vediamo poi guarda come funzionano di più i colori così stiamo sotto una vita fredde ci possiamo portare gli occhi rossi di cinderace assetati di sangue secondo me questa è la scelta di colore giusta adesso andiamo a fare un po' di shading lo faremo abbastanza basilare quindi faremo semplicemente delle belle ombre a voi pecorotti vi piacciono le ombre siete così edgy me zio mi piacciono le cose creepy porca zozza perché la mia anima è oscura nessuno mi può capire nessuno mi ama è così che ragionano i 16 anni oggi come i 16 anni di un tempo perché era così siete tutti dei billy eilish è un po' di tridimensionalità asterecchie va asterecchie i miei genitori non mi capiscono vorrei scappare da casa la scuola è soltanto un metodo del governo per non farci pensare con le nostre teste perché hanno paura di noi hanno paura io ho paura di voi dei bimbi minchia di 16 anni questo tutto in ombra tutto in ombra perché ho deciso così poi ci andremo a lavorare un po' sfumando un po' di qua un po' di là non vi preoccupate questo è per decidere più o meno a grandi linee tutte le luci tutta la grande luce big light boy così mi chiamano big light yagami una versione grassa di light yagami oh mio dio questa è un'altra idea disegno gli anime grassi così a caso sì ma goku grasso l'ha mai fatto nessuno su youtube se qualcuno mi ruba l'idea madonna voglio sfumare leggermente appena appena quella poi un po' di luce di riflesso dietro un po' azzurrino una luce fredda e ho deciso appunto di tenerlo molto semplice così che magari qualcun altro possa provare a colorare o a disegnare con queste tecniche un po' più semplici poi questa è troppo netta come ombra quindi la sfumo così l'orecchio sembra un po' più morbido sì ci piace morbido oddio qui mi sa per uscire una battuta di quelle sai non proprio friendly family friendly però avrei tanto voluta fare perché devo trattenere il mio estro creativo anche a livello di battute zozze quasi quasi aggiungo un altro livello di ombre già mi sto complicando la vita già sto complicando un po' il disegno chiedo scusa ho detto una cosa semplice invece eccomi qua che faccio le stronzate datemi un po' di tramonto datemi un po' di erba un po' di fiorellini perché i fiorellini sembrano palle di cotone che ha perso fiorellini fiorellini datemi un fiorellino oh fiorellino datemi una pietra un sasso sì il sasso mi piace il sasso si deve appena vedere dietro bello il sasso ci mettiamo un po' di muschio sul sasso ok è più un cespuglio che un muschio facciamo il cespuglio cespuglio va bene datemi un bel sole diamo luce a questo sole poi ultimo tocco abbiamo bisogno di un po elementi volatili che danno atmosfera al tutto possono essere petali foglioline che diano un po di dinamismo alla scena perché tutto questo lavoro direte voi perché ci sta bene bene signori vi illustro il mitico soft boy soft boy ha ben 180 hp a una mossa si chiama baci a bracci a illustratore electric peo baci a bracci lancia una moneta se c'è testa non accusi danni la forbice x y e z pure che la descrizione fa male debola al fuoco resistente all'acqua e la descrizione è come corre lui nessuno guarda se segui il canale telegram magari l'hai già anche scaricata visto che lì la condividerò penso che questo sia quanto per questo mitico video penso sia stato divertente poi fatemi sapere se questa è una carta che vale qualcosa non serve un cacchio a nessuno tanto sono carte adesso come al solito alla mia destra appariranno dei video in sovraimpressione che potete cliccare se avete ancora bisogno di una dose del vostro caro zio peo di quartiere il pulsante iscriviti ma ancora più importante la campanella cristo dai jesu dai non essere un pecorone oh